Vigili del fuoco di Fano impegnati nella salata di sabato sera nel sottopasso di via Pertini per un principio di incendio verificatosi in un ricovero di fortuna di un senza tetto sotto le strutture in cemento armato del sottopassaggio dove ancora oggi si possono notare i chiari segni della sua presenza. I sottopassi della rotatoria di via Roma diacente alla chiesa di San Cristoforo sono da innumerevole tempo chiusi ed impraticabili e ridotti a una discarica a cielo aperto, mista ad una selva di erbacce ed arrampicanti che ormai si sono completamente impadroniti delle strutture. Rampe, cancelli, passaggi sono un cumulo di immondizia puzzolente, etana, diratti, bisce e chissà quale altro animale. A questo aspetto al di sotto della sede stradale e quindi fuori dalla visuale di chi sfreccia in auto ma ben presente a chi vi passa in bici o più sfortunatamente a piedi per recarsi al supermercato vicino, a questo si aggiunge la situazione di degrado e ammaloramento delle strutture in superficie come parapetti arrugginiti o abbattuti e transenne di fortuna che impediscono l'accesso ma che legate con fil di ferro non regalano certo uno spettacolo edificante considerando anche l'elevato flusso di auto di non fanesi che dall'apertura dell'interquartieri vi transitano ogni giorno, un altro dei poco edificanti biglietti da visita della città di Fano. Una situazione che si trascina però da diverse amministrazioni a questa parte, un lascito del passato che non ha mai appassionato nessun amministratore e che anche al momento non sembra essere contemplato in nessun possibile recupero. Grazie